fans appena finita di scrivere un'altra canzone intitolata scusami se me ne vado come sempre la voglio regalare a voi un'anteprima live poi prossimamente ci sarà con la base farà parte del mio prossimo album perché non la posso inserire su questo che è quasi completo la canzone si chiama in titolo scusami se me ne vado e fa così scusami se sto stasera settimana mia saluta nati forse solamente una spandata per me ma sto pensando a essa quando faccio amore con te te prego la semestà ormai tu non ti miro tu tu sti cosa da me quando vado a gi sbagliato dei confronti tuoi ma tu mi vuoi bene vero e mi sembra perdonato però stasera ti dico basta perché l'ha rubato visto che poteva immaginata e sb la posta trovo io che poteva immaginata ma vado a dire che poteva immaginata quanti anni siamo stati insieme tutta la vita e solietti finiamola qui non posso continuare e l'altra canzone che scrissi era amore e tradimento che doveva fare parte del film che feci l'anno scorso doveva inserire in quel film con la canzone ma non ne abbia il tempo di finire la base e dovevo comunque mandare il film su youtube la canzone fa amore e tradimento fa così mi canto solo il ritornello scusami tu ma l'aggadagio fatto ma non può più continua la nostra storia mi sembra come non fii intitolato amore e tradimento così una buona guaglione e non temere tutte queste cose mi dispiace tanto quando si innamorate me perdonami ci sono tanto maglione a tutto buona mura ma che non fai me a io sono già sposato e tenga i figli che mi aspetta una casa questa era la canzone amore tradimento sempre il ritornello e l'altra canzone che ho scritto ultimamente tu donna di strada fa così mi canto sempre il ritornello tu donna di strada che fai a quest'ora e notte vendi il tuo corpo per mezz'ora d'amore perché hai trovato l'uomo sbagliato che ti costringe a fare questo lavoro perché se non porti i soldi lo ti fa tanto male tu non puoi immaginare che male che mi fa solo non consigli di bozzi solo da lascia questo uomo e scappi via na 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 tu donna di strada dai finiamola qui vi ho cantato un po' dei remix di canzoni nuove scritte sempre da me da sottoscritto e che dire vi aspetto come sempre il 27 novembre per l'evento cena spettacolo io canterò per voi live con due nuove canzoni inedite che faranno parte del nuovo lavoro discografico sempre a bitonto presso la sala carne plaza potete già cominciare a prenotare chiamando la sala direttamente o se non mandate un messaggio sul mio profilo di facebook giuseppe sgaramella cantante neomelodico un bacione vi voglio bene ciao fans